Morire, travolta da un'auto, nella manciata di metri che dividono fra la propria abitazione e il bar davanti casa. Questa mattina è morta così Antonia Arduini, novantenne da sempre residente ad Osteria Nuova e da tutti conosciuta come Tonina. La pensionata come centinaia di altre mattinate, oggi si stava recando al bar Pippo di fronte casa per un abitudinario rituale della colazione mattutina. Attraversava sempre sulle strisce pedonali, disegnate proprio davanti al cancello di casa in via provinciale, strada principale della frazione montelabattese. Questa mattina però, attorno alle 7, la donna è stata investita da una utilitaria Ford che presumibilmente non si accorta della presenza dell'anziana in transito. Questo suggerirebbero i rilievi sull'asfalto che denotano segni di una frenata tardiva e oltre il punto dell'impatto con l'anziana travolta e spinta in avanti per circa una cinquantina di metri. Alla guida dell'auto un trentenne sceso in lacrime dal veicolo una volta appurato che quell'anziana era morta sul colpo. Vani i soccorsi del 118. Poco dopo, anche il figlio di Tonina, residente a un paio di isolati, ha raggiunto il luogo dell'incidente, forse causato dalla bagliante luce solare che a quell'ora può offuscare la vista sulla carreggiata. Supposizioni al vaglio di polizia stradale, polizia locale di Montelabate e carabinieri che sono intervenuti sul posto indagando per la ricostruzione del sinistro.